In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it, Giuseppe puoi aggiornare i nostri telespettatori sulle condizioni attuali del tempo. L'estate meteorologica sta per terminare e quest'anno si è mostrata molto attiva sulla nostra regione con temperature che hanno fatto registrare valori da primato e non in maniera sporadica. Per più giorni consecutivi infatti il caldo è stato opprimente con tassi di umidità molto elevati, ondate di calore a ripetizione legate all'espansione dell'anticiclone subtropicale che hanno inibito i temporali pomeridiani i quali durante le estati degli anni 80 erano la norma. Ora però la situazione sta per cambiare con l'uscita di scena dell'anticiclone africano dal Mediterraneo. Infatti il flusso perturbato delle correnti atlantiche tenderà ad abbassarsi leggermente di latitudine e nel corso di questo fine settimana finirà per rilasciare una goccia fredda e inquieta proprio sulla nostra penisola. Aumenterà l'instabilità e per di più non sarà relegata solo alle aree interne montuose ma interesserà anche la costa specie a partire dalla giornata di domenica. Come si svilupperà invece il tempo nel prossimo fine settimana e cioè nelle giornate di sabato 31 agosto e domenica primo settembre? Per domani sabato 31 agosto avremo condizioni di tempo instabile con alto rischio di precipitazioni durante il pomeriggio segnatamente nelle aree interne montuose, temperature stazionarie con valori massimi sempre sui 30 gradi centigradi, venti in temporanea disposizione da sud con tendenza a ruotare da ovest nord ovest, mare da poco mosso a mosso, domenica primo settembre da poco nuvoloso a nuvoloso ad iniziare dalle aree costiere con associate precipitazioni in intensificazione nel corso della giornata. I fenomeni assumeranno carattere di rovescio temporalesco e potrebbero risultare localmente anche di forte intensità, temperature in lieve diminuzione dal pomeriggio sera, venti in intensificazione da libeccio e mare mosso con tendenza ad ulteriore aumento del motondoso. Per quanto riguarda invece la tendenza della prossima settimana come sarà il tempo previsto? Per l'inizio della prossima settimana il Mediterraneo potrebbe divenire sede di un modesto vortice ciclonico ben strutturato però a tutte le quote. Ciò comporterebbe instabilità più diffusa e marcata con il passaggio di veri e propri fronti perturbati. Una prima perturbazione potrebbe interessare la nostra regione già a partire da lunedì 2 settembre determinando precipitazioni anche di una certa consistenza soprattutto in prossimità della costa e sul settore più settentrionale della regione. Non si tratterà dunque di rovesci legati all'instabilità pomeridiana così come accadrà nel weekend, bensì saranno precipitazioni che potranno verificarsi a qualsiasi ora della giornata. Le temperature chiaramente subiranno una ulteriore diminuzione riportandosi su valori normali per il periodo o addirittura qualche grado al di sotto specie a partire dal 3-4 di settembre. Ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare